Prima di iniziare, di dire alcune parole sulla festa e lasciare la parola a Federico, io volevo chiedere a nome del Partito Democratico di alzarvi per un minuto di silenzio per l'attentato che ha colpito non soltanto la comunità ebraica, adesso stanno arrivando ancora le notizie, sono gli otto i morti e decine di feriti per l'attentato al bus di turisti israeliani che ha colpito in Bulgaria, nella città di Burgess, questi turisti che venivano da Tel Aviv. Grazie. Il Partito Democratico di Roma ha annullato in questa serata, proprio in segno di lutto, tutti gli spettacoli che solitamente animano questa festa. Io proprio rispetto a questa festa voglio dirvi due cose, prima di lasciare la parola a Federico ringraziandolo per la presenza, insieme ovviamente alla presenza del Presidente Rosi Bindi. Questa è una festa, lo dicevo prima appunto al Presidente girando negli stand gestiti dai volontari che sta quasi arrivando alla fine di un lunghissimo viaggio che durerà alla fine 44 giorni, questa è la festa più lunga d'Italia e che dà la possibilità ai cittadini romani non solo, visto che ci troviamo nella capitale del paese, di usufruire oltre che di un posto bellissimo come quello che ci ospita, anche la possibilità di ascoltare dal centro della città i dibattiti di livello nazionale come quello di questa sera, ma anche i dibattiti che portano il Partito Democratico di Roma a fare quello che è scritto sul manifesto di lancio della festa, Roma ce la farà. E questo è possibile perché il Partito Democratico di Roma ha una grandissima risorsa come il Partito Democratico nazionale, che sono i volontari, sono le persone che permettono la possibilità di fare tutto questo e sono quasi 300-400 a sera che si alternano da 44 giorni per realizzare questa cosa. Questo è il volto del Partito Democratico, nessun altro partito in Italia ha questa possibilità e questa ricchezza per noi è una ricchezza fondamentale, che questa festa la rende ancora più bella e più interessante agli occhi di tutti. Questa è una festa che ieri ha avuto su questo palco il segretario nazionale, da qualche giorno a questa parte stiamo raccontando quello che sta succedendo nel Paese, quello che drammaticamente sta succedendo nel Paese, stiamo raccontando anche quello che succede rispetto alle aziende, agli enti di ricerca tagliati, a quello che succede ai lavoratori anche di questa città e li stiamo raccontando anche da questo palco, dal palco nazionale ma anche dai palchi del Partito Democratico di Roma rispetto al gruppo comunale che ancora oggi sta facendo una battaglia nell'aula Giulio Cesare fondamentale, partita il 5 maggio scorso con una vastissima rete di opposizione in cui tutti i partiti del centro-sinistra sono scesi in piazza insieme alle associazioni, ai sindacati per dire no alla svendita di un patrimonio pubblico che è Acea e noi continueremo a fare questa battaglia in Consiglio Comunale anche avendo avuto delle vittorie rispetto al Consiglio di Stato che si è pronunciato e questo è quello che il Partito Democratico di Roma sta tentando di fare. Io ripeto, volevo rubarvi davvero pochi minuti e lo farò quindi mantengo la promessa. Voglio ringraziare Rosi Bindi perché di solito alle donne spetta la possibilità di avere posizioni anche difficili e spesso più avanzate. Lo dico perché lei è venuta quando è stata vittima di insulti da parte dell'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi a cui diciamo qui ha avuto diciamo larghissima solidarietà da parte non soltanto dei visitatori ma di tutti ovviamente i volontari del partito. Noi oggi facciamo la stessa cosa perché penso che in questi giorni noi abbiamo avuto discussioni che ci hanno forse diviso la posizione di Grillo nei suoi confronti, una posizione francamente che lo stesso segretario qui ha ritenuto indecente e lo ha detto, così come le divisioni che oggi ci hanno visto diciamo sui giornali sono divisioni che non fanno bene al Partito Democratico ma neanche la discussione, poi lo dirà lei non sta a me diciamo a entrare nel merito della discussione. Però gli volevo dire grazie perché spesso diciamo alle donne spettano posizioni, fatelo un applauso perché è giusto che sia così. E lei lo ha fatto e io di questo diciamo lo ringrazio anche perché insomma ero presente all'Assemblea e so quello che diciamo è successo pur avendo diciamo posizioni diverse. L'ultima cosa lo dico perché questo è un partito che è un partito complesso che viene da esperienze diverse e da profonde culture anche diverse. Il fatto di avere una posizione a larghissima maggioranza è una vittoria diciamo per il Partito Democratico e poi la battaglia che si farà diciamo nel Parlamento, un Parlamento probabilmente speriamo diverso da questo perché noi ogni tanto dimentichiamo che il Parlamento ereditato è un Parlamento di chiaro stampo di centrodestra, è una battaglia che farà che una battaglia civile di un Paese che su alcune tematiche comprese quelle delle unioni civili era non solo arretrato ma era fermo diciamo a centinaia di anni diciamo di arretratezza sia culturale che civica diciamo e quindi il fatto che il Partito Democratico lo stia facendo penso che sia e ripeto testualmente le parole del segretario Berzani di ieri un passo avanti, sperarne di farne tre per non farne nessuno e meglio uno avanti diciamo su una posizione avanzata. Io vi ringrazio e ringrazio Federico Giovere Micca che modererà l'intervista e Rosi Bindi e grazie a voi della partecipazione ricordandovi che questa festa finirà il 29 luglio e l'ultimo applauso abbiamo aperto con una notizia drammatica, c'è una notizia positiva invece in questa giornata che merita il nostro applauso che è la liberazione di Rossella Urdu, la cooperante italiana sequestrata nell'ottobre scorso, a lei ovviamente la nostra solidarietà, lo ha detto il Ministro, aspettiamo la liberazione ovviamente anche dell'altra cooperante quindi stiamo vicino alla famiglia dell'altra cooperante però una notizia di gioia in una giornata drammatica, grazie. Allora, buonasera a tutti e scusateci per il ritardo, ringrazio anche io il Presidente Bindi alla quale darò del lei stasera anche se ci conosciamo da tanto tempo e la ringrazio anche perché in questi casi è semplicissimo farsi venire un mal di gola, disertare appuntamenti che possono rivelarsi anche un po' scomodi. Io infatti cercherò di essere Rosi scomodo stasera, nel senso che data la solidarietà che è del tutto dovuta e della stessa che le fu riservata quando lei fu oggetto di attacchi gravi simili da parte del Presidente del Consiglio, detto tutto questo resta però la questione che si è aperta all'ultima l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, anzi lì se ne sono aperte due, l'altra riguarda le primarie ma io partirei dalla prima che è senz'altro la più delicata, manifestando anche un certo stupore francamente per come siete riusciti a far degenerare un'Assemblea Nazionale che fino a quel punto aveva avuto un senso e aveva anche fornito alcune risposte alle cose che gli elettori del PD chiedono ai vertici del partito, ma soprattutto perché al di là della divisione è abbastanza stupefacente che una questione che ha profondamente segnato il centro-sinistra negli anni passati sino a in qualche modo di fatto determinare lo sfarinamento, la crisi della maggioranza che sostenne tra il 2006 e il 2008 l'ultimo governo di Romano Prodi voi siete riusciti a non risolverla e a riproporcela, anzi a riproporla agli elettori del PD tale e quale com'era quattro anni fa. Allora ci sono anche cose di giornata che in qualche modo riguardano il Presidente Bindi, c'è un articolo sul Corriere della Sera di Paolo Franchi che ipotizza per i cattolici nel PD un ruolo di guardiani di valori che non sarebbero negoziabili, proprio perché sono anche legati in qualche modo alla fede, ma ci sono anche ancora dichiarazioni interne al PD, penso a quella rilasciata da Matteo Orfini che contesta al Presidente dell'Assemblea nazionale una gestione sbagliata della conclusione dell'Assemblea. Allora io chiederei con la franchezza che è tradizionale, anche con i toni diretti che facevano di nè la passionaria, questo era il suo appellativo un po' di anni fa, chiederei al Presidente Bindi di spiegarci che cosa è successo e come pensate di venire fuori da una faccenda che rischia di farsi molto delicata per l'alleanza di centrosinistra. Grazie. Grazie a tutti, grazie al PD di Roma che ci regala sempre un'estate così bella, grazie a Federico Geremicca che anche lui con la franchezza che gli è propria, mi ha rivolto una domanda che è sicuramente impegnativa per me ma che è la dimostrazione di quella strana cosa che è la comunicazione nel nostro Paese, me lo consentirà Federico questa piccola sottolineatura e incomincio subito a cercare di fare chiarezza prima di tutto con l'intervistatore. Non si è aperta una questione sabato, si è chiusa, la differenza è questa, si è chiusa perché l'assemblea del PD a larghissima maggioranza ha approvato una posizione molto chiara e condivisa non soltanto da chi l'aveva elaborata e ci aveva lavorato per un anno e mezzo ma condivisa dal partito. Io rimango veramente stupita che si sia descritto l'assemblea come una spaccatura che appunto si ritenga che la questione si è aperta. Il più grande partito italiano che si candida a governare il Paese, unico partito in questo momento nel nostro Paese, ha trovato un punto d'incontro su questioni che sono lasceranti, non dentro i partiti, nella vita del Paese. Una posizione comune intorno alla quale potrà attivare un impianto normativo, legislativo che finalmente porterà questo Paese fuori dalla sua retratezza e lo porterà in Europa non solo con i conti a posto ma anche con una legislazione sui diritti civili che ci metterà in linea con i grandi Paesi che sono la Germania, che sono la Francia, che sono l'Inghilterra, che a tutt'oggi sono gli Stati Uniti d'America. Perché in quel documento c'è scritto, nel rispetto pieno della carta costituzionale. Altro grande, grandissimo valore, noi siamo il partito della Costituzione sempre, non solo quando c'è da difendere le prerogative del Parlamento, il ruolo del Presidente della Repubblica e la Repubblica fondata sul lavoro. Noi siamo con la Costituzione sempre, anche per quanto riguarda la famiglia e i diritti delle persone e la possibilità, con la Costituzione in mano, di dare a questo Paese una regolamentazione che sia capace di interpretare il cambiamento che è in atto in Italia come nel resto del mondo. In quel documento che è ricchissimo, che contiene una cultura politica, poi dopo rispondo su Franchi, una cultura politica che ci hanno fino adesso lacerato, che hanno diviso il Paese, che riguardano il rapporto tra diritti sociali e diritti civili, che riguardano il rapporto tra la persona, lo Stato e la politica, che riguardano il senso della ricerca, il nostro rapporto con la vita e con la morte, la nostra individualità e la nostra responsabilità nei confronti della comunità. C'è anche un doveroso paragrafo dedicato al riconoscimento in maniera esplicita delle unioni civili, anche omosessuali, sul solco della Costituzione e della interpretazione che della Costituzione ha fatto recentissimamente la Corte Costituzionale. Io non capisco che cosa si dovrebbe aprire. Ritengo che possiamo parlarci o avete... Posso parlare io? Visto che questa sera devo rispondere alle domande di Geremica. Posso parlare? Posso esprimere? Vedete, io penso che questi atteggiamenti non aiutano a fare un passo avanti. Io penso che questi atteggiamenti non aiutano a fare un passo avanti. Come? Così come hanno contribuito a far apparire lacerata una realtà che lacerata non è, non aiuta a fare un passo avanti a quelle minoranze del Paese che hanno, in virtù dell'impegno del Partito Democratico, tutta la possibilità di vedere riconosciuti i loro diritti. Allora, sì, minoranza. Vabbè, facciamola parlare. Io penso, io ritengo che se... avete intenzione di continuare così? Avete intenzione di continuare così tutta la sera? Volete dare prova? Vabbè, facciamo così, facciamo almeno concludere il Presidente, insomma, magari dice cose che vi convincono oppure che spiegano l'atteggiamento che ha avuto, non lo so, insomma. Ma l'atteggiamento... ma di che stiamo parlando? Ma mica sia in discussione la mia posizione, eh? È in discussione la posizione del Partito Democratico che è stata ripetuta in questo palco ieri sera dal segretario nazionale e che questa sera viene ripetuta la Presidente del Partito. È chiaro? È chiaro? È chiaro questo o no? Allora, questo è il punto. Vabbè, ma così però non arriviamo a niente, non sentiamo né voi né lei. Io penso, scusate, che se non ascoltiamo... Il motivo... Sì, poi se ci sono delle contestazioni o delle persone che vogliono parlare, intanto adesso c'è un dibattito sul palco e quindi il Presidente, prego di continuare l'intervista. Grazie. Io la, come dire, la continuo lo stesso, sia chiaro, perché io... A me hanno insegnato che non si disturba, se c'è chi lo fa, pazienza, insomma. Saprete distinguere, no? Quindi, perché mi pare che poi questo sia il punto. Allora, questa è la posizione su questo punto specifico che il Partito ha assunto a larghissima maggioranza. È vero. Ha escluso e non si è impegnato con quel documento, con il matrimonio, con, diciamo, quella forma, un esplicito riferimento all'istituto del matrimonio per le relazioni omosessuali. È vero. Ma io penso che non è così in Germania, è così in Francia, è così negli Stati Uniti d'America, salvo alcuni singoli stati. È vero, ci sono altri paesi in Europa e nel mondo che hanno ritenuto di dover prevedere l'istituto del matrimonio. Non è così in altri. Per quanto mi riguarda, ma non a me, ripeto, c'è un'interpretazione della Corte Costituzionale su questo punto che esplicitamente parla... Ma che stai dicendo? Mi dispiace molto. Guardate, 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 allora, essendoci esplicitamente scritto nella recente, nella recente... Si deve fare. Lo vedete perché non otterrete mai niente in questo paese? Scusate, c'è un tema di rispetto, possiamo finire questo dibattito, c'è un tema di rispetto nei confronti di delle persone che stanno dialogando su questo palco, quindi c'è un tema di rispetto nel senso che ci sono altre 200 persone che vogliono ascoltare. Forse ce n'è anche qualcuna in più. Allora, se volete cito... Ci sono tante altre persone che vogliono ascoltare, quindi queste persone, e sono forse anche la maggioranza, se tu ti giri e guardi intorno, quindi Presidente, vada avanti. Allora... Siccome in quella sentenza è esplicitamente escluso il ricorso al matrimonio, ma vi è invece la possibilità, il riconoscimento delle unioni civili dalle quali discendono diritti e doveri per i conviventi, il Partito Democratico si assesta su questa posizione intorno alla quale riuscirà anche a costruire un dialogo e un confronto in Parlamento. Possiamo passare alla seconda domanda? Allora, no, ma ci vuole pazienza. No, va bene, faccio un po' di pazienza. La cosa che dispiace di più è che chi lavora per un obiettivo trova dei nemici sulla propria strada. Chi è il loro avversario è considerato il loro amico, non ci posso far niente. Ci ho messo la faccia tante volte su questa cosa e continuerò a mettercela. Continuerò a mettercela. Allora, per quanto riguarda poi, ma io penso che sia legittimo che ci sono delle persone dentro questo partito che hanno anche una posizione diversa, non c'è dubbio, ci mancherebbe altro. Ma se si sta insieme, a un certo punto si sceglie una posizione comune e su quella si va avanti. Perché si fa così in tutte le realtà associative ed è l'unico modo che c'è per portare a casa i risultati che ci interessano. Con la gradualità che la politica rappresenta da sempre. Per quanto riguarda poi l'articolo di Franchi, vedete, io in questi giorni ho davvero capito che o si fa il partito democratico e non perché è una questione cattolica. Perché Io penso Presidente, continui perché No, ma io continuo, ma come dire, penso che ci potrebbe essere la possibilità Ma è così faticoso ascoltarci, è così faticoso. Sì, allora ve lo dico subito, guardate, capiamoci subito. Capiamoci subito, se qualcuno pensa che ai cattolici nel partito democratico gli sia riservato solo la libertà di coscienza se lo scordano, perché se così fosse questo partito non sarebbe capace di interpretare la realtà italiana nel suo pluralismo e nella sua complessità. Noi ci siamo candidati a governare l'Italia, non a interpretare un pezzo della società italiana. Vi è chiaro questo o no? Questo è il punto. Su tutto il resto è così. Io capisco che queste sono questioni più delicate di altri. Capisco che ci sono persone che sono attraversate nella propria carne, nel proprio cuore e nella propria mente. E ne ho un profondo rispetto. Ma che venga meno da parte vostra il rispetto a chi ci ha messo la faccia ben anni addietro quando mi hanno convocato una piazza contro per aver provato a dare un riconoscimento giuridico a voi e alle vostre relazioni affettive. Non accetto che adesso si dia un'interpretazione minimale di un passo avanti che abbiamo fatto insieme e che ci porterà finalmente in questo Paese non ad imporre agli altri la nostra morale come ha fatto la destra. Non lo praticheremo mai il bipolarismo etico in Italia noi. Scordatevelo. Lo hanno fatto loro con la fecondazione assistita, lo hanno fatto loro con il testamento biologico. Se noi andiamo al governo troveremo l'unità dell'Italia su questi temi. Non imporremo la nostra morale. È chiaro perché dentro il nostro partito abbiamo questa straordinaria ricchezza. Nessuno di noi è relegato né al voto contro né alla libertà di coscienza né alle imposizioni delle maggioranze. Ciascuno di noi è ascoltato, porta la sua posizione e insieme si costruisce la posizione comune. Così si fa un partito pluralista e così si governa l'Italia. Nel solco della Costituzione. Se volete fare politica. Se io volevo andare a stare in un partito dove la pensavano tutti come me ce l'avevo. E forse lo potevo fare anche uno mio. Va bene? Se stiamo qui. Se stiamo qui tutti insieme. E ve lo dico chiaro e tondo. È perché io ho bisogno di voi. E se voi non sentite il bisogno di me. Forse siete voi che dovete andare da un'altra parte. Non io. E a tutti i commentatori di questi giorni che hanno visto in questo passaggio l'impossibilità di fare il PD, compreso Franchi, gli rispondo chiarissimamente. Questa è la possibilità di fare il PD. Perché in questo partito non c'è una cultura egemonica. Io non sono venuta a fare l'indipendente cattolica dentro il partito della sinistra. Vi è chiaro questo? È chiara questa cosa qua? E non voglio che ci sia un indipendente gay dentro questo partito. Perché voglio? Non è vero. Non è vero questa cosa qua. Perché lì c'è scritto con chiarezza questo impegno di questo partito. E questo lo porteremo avanti. Se tu ti presenti col matrimonio gay, con questa Costituzione, non passa in questo Paese. E ti tieni nella situazione in cui sei adesso. È chiaro? Guarda, te la racconto così. Ve la racconto così. I vescovi che non volevano i dico dicevano che era un matrimonio. Voi non volete le unioni civili e dite che è un dico. I vescovi rimpiangono i dico e voi rimpiangerete le unioni civili se andate avanti con queste posizioni massimaliste. Vi è chiaro? Con queste posizioni massimaliste. Allora finiamola là. Allora così stanno le cose. Questo è il punto vero. Fa la finita. Ascolta. Ascolta. Fa politica. Ascolta. Leggi. Cerca di capire. Per favore. Che siamo tra persone intelligenti qua. Ma stiamo scherzando. Ma di che cosa vogliamo fare? Nel momento in cui questo Paese sta rischiando il collasso senza lavoro, le famiglie senza possibilità, col rischio della banca rotta, che si buttino fuori d'Europa, il primo partito d'Italia, il primo partito d'Italia si lascerà sul nulla in questo modo qua. Per gli equivoci creati da qualcuno. Ad arte. Ad arte. Perché io di voi ho un grande rispetto, ma di quelli che vi strumentalizzano per i loro personalismi politici non ne ho nessuna. È chiaro? Fa la finita. Smettila. Non fare del male alla tua causa. Stai buono. Non fare del buono alla tua causa. Non fare del male alla tua causa. Va bene. Questo però non è vero. Va bene. Io le mie battaglie le ho sempre fatte per tutti. E ci ho sempre messo la mia faccia. Capito? E stai buono là. Che se oggi questa roba passa, passa perché c'è stato chi ha accettato la cattività. Lasciamo perdere. Andiamo avanti. Allora su questo punto ci sa da capire, anche con i grandi commentatori. Questo o si capisce la novità di questo partito e si capisce il senso della novità politica che è necessario mettere in atto non soltanto in Italia ma in Europa e nel mondo. Allora se ne veniamo fuori su questi temi, sul lavoro, sull'economia, sulla nuova sfida contro il populismo che è in atto in questo momento nel mondo. l'Europa, se accettiamo la sfida di un partito plurale, dell'unione tra i riformismi e la loro capacità di dialogare con tutti, dove non c'è una cultura egemonica che riconduce tutto a se stessa o che pensa di metabolizzare tutto ciò che di nuovo si affaccia lì per riprodurre in un modello organizzativo vecchio, in una visione del passato, della propria cultura, le proprie proposte, ne usciamo fuori. Se c'è qualcuno che pensa che siamo entrati nel partito democratico tutti insieme per rifare una socialdemocrazia che ha già dato la prova del fallimento perché non ci sarebbe questa crisi se la socialdemocrazia fosse stata capace di capire che cosa stava succedendo non avrebbe vinto la destra del mondo, non sarebbe arrivata la finanziarizzazione dell'economia la speculazione, l'umiliazione del lavoro, dei diritti dei lavoratori, le disuguaglianze è perché la destra ha vinto con le sue idee sbagliate e la socialdemocrazia del novecento non è stata capace di interpretare la novità di quest'epoca lo possiamo fare se si mettono insieme quelle culture riformiste che sono dentro il partito democratico se anziché sognare ritorni al passato magari attraverso correnti identitarie dentro il partito democratico fatte dai cattolici o fatte dagli ex comunisti e si prova a stare insieme a fare la fatica di capirci, di trovare un punto d'incontro, capiremo il mondo e lo guideremo altrimenti a me di fare accordi di potere con quelli o quegli altri non mi importa niente perché questo l'abbiamo già visto alla prova non è servito in Italia, non è servito in Europa abbiamo davanti a noi una sfida più grande allora questo si vuol fare? se si vuol fare questo si passa attraverso la fatica di questi temi dove non si vota a colpi di maggioranza se non dopo aver fatto la fatica di mettere insieme le idee come abbiamo fatto noi per un anno e mezzo e chi si è dissociato sabato lo ha fatto perché non ha voluto fare la fatica di andare d'accordo con tutti gli altri perché non si è mai presentato alle riunioni perché si è presentato e non ha portato gli emendamenti che andavano portati sui passaggi centrali perché ha preferito piuttosto che fare la fatica di trovare una posizione comune della ditta direbbe Berzani di ritagliarsi uno spazio che certo fa molto finire sui giornali ma che lascerà il partito e non aiuta a fare un passo avanti né dentro il partito né nella società italiana né nelle possibilità che abbiamo per il futuro né nella soluzione dei problemi però Presidente Ovali naturalmente diciamo la passione con la quale lei aspira no è lucidità questa non è solo passione è lucidità non è solo passione non è un'offesa diciamo voglio dire la passione che lei ha messo nel ricapitolare quello che è accaduto e che naturalmente diciamo è apprezzabile non può però diciamo come dire poi portare a sintesi il tutto dicendo come al solito e qua non faccio una difesa di categoria perché veramente non me ne frega nulla che sono stati i giornali che hanno capito poco quello che è successo che hanno come dire diciamo così è enfatizzato le divisioni e comunque se anche fosse questo io credo che voi vi dovete porre il problema perché dopo una giornata di lavori il messaggio che passa è quello lì ora io non so nulla delle correnti che avete nel PD di chi fa i personalismi di chi usa diciamo il tema dell'omosessualità per fare non lo so tessere eccetera eccetera ma è un problema vostro diciamo non è né un problema nostro di chi fa il lavoro il giornalista né è un problema di chi vive la situazione dell'omosessualità diciamo in confini ancora di disagio che sono del tutto evidenti e che negare diciamo sarebbe secondo me del tutto sbagliato ma detto questo l'assemblea si è caratterizzata anche per un altro aspetto l'assemblea diciamo doveva per quello che era stato posso dire come avrei titolato io? ma lei lo può dire ma io non posso dirlo? ma naturalmente il partito democratico vota un documento a larga maggioranza c'è una minoranza una minoranza che non è d'accordo che è molto agguerrita che giustamente rivendica dal suo punto di vista qualche cosa di diverso ma non avrei mai titolato PD spaccato perché non è vero non è vero non è vero è una raffigurazione della realtà che non c'è perché una posizione comune è stata trovata adesso entreremmo come dire in degli aspetti troppo tecnici diciamo che magari non interessa come troppo tecnici? che tecnici? che tecnici? ma naturalmente diciamo c'è stato un problema che ha riguardato per esempio nemmeno qua sa signora cioè come dire chiediamo una par condicio di intelligenza quanto meno una par condicio di intelligenza comunque non parlavo del suo giornale no ma non c'entra era semplicemente per dirvi se i giornali trasmettono in maniera errata il messaggio politico del Partito Democratico forse c'è anche una responsabilità del Partito Democratico è troppo comoda prendersela sempre con i giornalisti che non capiscono il che può anche accadere posso dire che ci potrebbe essere l'intelligenza di capire la differenza tra una posizione che è portata avanti da tutto il gruppo dirigente e che prende circa 700 voti in un'assemblea ma c'erano membri della segreteria che avevano firmato alcuni di quegli ordini del giorno quindi non è proprio diciamo così pacifica allora questo è un altro discorso in ogni caso la spaccatura l'hanno denunciato questo è un altro discorso questo attiene come dire se lei mi dice imparate a governare meglio all'interno del Partito io dico su questo le posso dare ragione c'è un'altra questione che noi giornalisti ci aspettavamo di vedere risolta dall'Assemblea Nazionale di Sabato dove in verità avevate prospettato a noi diciamo due grosse decisioni una che riguardava la carta degli intenti questi spunti programmatici sui quali diciamo chiamare al confronto le altre forze politiche e non ce n'è stata traccia onestamente e l'altra era una definizione più stringente dei tempi e delle regole delle primarie e nemmeno su quello è successo niente ed è tutto evidente che se poi si apre una confusione sul tema diciamo dei matrimoni gay i giornali non avendo altro su cui puntare diciamo enfatizzano la spaccatura del Partito Democratico ci vuole allora spiegare però sulle primarie a che punto siamo perché abbiamo assistito abbiamo ascoltato interventi dal Presidente D'Alema in giù di leader del Partito Democratico e da una parte dicono le primarie si faranno dall'altra parte non nascondono un grandissimo scetticismo poiché io so che in parte questo scetticismo è anche il suo vorrei un attimo capire diciamo l'iscritto e l'elettore al Partito Democratico se potrà andare a votare alle primarie oppure se queste primarie non si faranno dunque a parte che la carta di intenti era contenuta nella relazione del segretario si può discutere francamente non era così diremo che diremo che insomma a noi c'era stato prospettato un documento impegnativo io siccome ieri sera era qua e l'avete ascoltato tutti è stato ascoltato da tutti quella relazione è a disposizione io ritengo che dentro quella relazione ci sia tutta la possibilità intorno alle sue proposte le proposte contenute nella relazione del segretario che è stata votata all'unanimità la costruzione di quel diciamo progetto per la ricostruzione dell'Italia con la quale noi intendiamo aprire un grande dialogo non solo con le forze politiche ma con tutto il paese con il quale non vogliamo solo vincere le elezioni vogliamo poi governarlo questo paese e mi pare che dentro la relazione del segretario i punti fondamentali che riguardano le nostre scelte per la democrazia per il modello economico sociale l'investimento nei confronti delle grandi questioni che sono quelle del nuovo welfare della ricerca della cultura i grandi beni comuni intorno ai quali ricostruire la vita di questo paese io ritengo che dentro la relazione del segretario tutto questo sia contenuto in maniera assolutamente condivisibile qualcuno può dire perché non gli avete dato la veste di un documento ma insomma tutto questo è collegato anche al fatto che guarda caso lui ha scelto di aprire anche le primarie ed è chiaro che da questo momento in poi non potrà che esserci anche un'accentuazione lideristica della vita del partito democratico io non nascondo che io stessa ritengo che le primarie di coalizione sono primarie che il segretario del partito democratico va a fare con esponenti di altri partiti non capisco perché si debbano fare le primarie con esponenti del partito democratico visto che abbiamo non lo capiamo noi visto che abbiamo eletto a questo punto facciamo un elemento lei è il presidente dell'assemblea nazionale avete approvato uno statuto nel quale c'è scritto che in caso di primarie di coalizione il candidato del partito democratico è il segretario esatto perché state cambiando idea io aggiungo perché è stata una scelta del segretario è Bersani stesso che ha sempre detto non intendo nascondermi dietro un articolo dello statuto e se ci sono altre persone anche del partito democratico che intendono concorrere alla premiership io sono disponibile apprezzabilissimo da parte sua io siccome quando l'ho votato come segretario l'ho votato anche perché c'è un articolo dello statuto che dice che il mio segretario sarebbe andato a Palazzo Chigi e francamente Bersani lo vedo quasi meglio a Palazzo Chigi perché penso che sarà il mestiere che saprà fare meglio io non capisco perché Bersani debba fare una competizione con qualcun altro vedi il sindaco di Firenze perché lo ha chiesto però lui ha scelto questo e per quanto mi riguarda come dire noi siamo disponibili a sostenerlo a fare le primarie però in un percorso che all'ultima assemblea è stato ribadito è che era stato votato all'unanimità dentro dentro la direzione primo si fa la nuova legge elettorale perché voglio capire che primarie si fanno se non si sa con quale legge elettorale si va a votare e se si vuole cambiare la legge elettorale un partito si concentra sul cambiamento della legge elettorale e non sul percorso delle primarie prima della legge elettorale primo secondo si fa un programma e intorno a quello si costruisce una coalizione con forze politiche e con forze sociali dopo si stabiliscono le regole delle primarie e dopo si vanno a fare le primarie come ho detto sul Corriere della Sera domenica le primarie non si fanno quando le chiede Renzi si fanno quando siamo pronti in un percorso che abbiamo disegnato perché riteniamo che questo è ciò che serve all'Italia perché qui il punto è anche un altro Renzi dice fate le primarie io le vinco e poi io decido programma e coalizione noi abbiamo un'altra visione di partito e di democrazia da noi il leader è espressione di un percorso associativo non è il contrario non è il contrario e allora noi vogliamo prima come partito come coalizioni disegnare il perimetro le scelte fondamentali per la vita del paese e dopo sceglieremo il leader io non le nascondo che personalmente sarà singolare se Dendola dice io non ho nessuna intenzione di partecipare a primarie di coalizione che di fatto sono un congresso del PD sarebbe singolare che ci dovessimo trovare alla fine solo con candidati del PD se così fossi io sarei la prima a dire che o si fa il congresso o non se ne fa niente è chiaro questo quindi non è vero che non abbiamo deciso abbiamo deciso una cosa saggia molto saggia prima di decidere le regole delle primarie vorrei sapere con chi vado alle elezioni e con quale programma per il mio paese e dopo faremo le primarie come abbiamo sempre fatto è una posizione chiara e netta che naturalmente diciamo aumenta i dubbi di chi ritiene che alla fine diciamo sarà molto difficile che queste primarie si facciano sarebbero peraltro primarie come dire per come la racconta lei in violazione dello statuto del partito democratico non c'è dubbio diciamo in violazione non c'è dubbio faremo una modifica dello statuto se Persani insiste nel fare le primarie come sta insistendo e se ci sono le condizioni è chiaro che dovremmo fare anche una modifica dello statuto ma la politica va avanti anche alle regole in questi casi si cambiano l'assemblea lo può fare se si ritiene che questo sia ciò che davvero serve al paese ma non era non era questo la priorità io penso che gli italiani vogliano sentirsi prima di tutto dire che cosa abbiamo intenzione di fare per loro ed è quello che abbiamo fatto sabato questo diciamo è sicuramente è sicuramente vero ma mentre voi presidente siete alle prese con queste questioni che sono oggettivamente difficili da risolvere non ne siamo alle prese tant'è vero che non abbiamo deciso ci siamo concentrati sui temi della democrazia del lavoro della legge elettorale dell'economia dell'Europa le primarie le affronteremo più avanti io mi riferivo anche alla vicenda precedente ci sono una serie di questioni aperte naturalmente essendo il partito democratico un partito diciamo molto dialettico ed avendo degli elettori che sono diciamo molto esigenti non è possibile nel partito democratico fare per esempio quello che sta accadendo per cambiare un attimo diciamo argomento dall'altra parte del campo dove io non so con quanta preoccupazione voi del partito democratico avete assistito nell'ultima settimana al cosiddetto ritorno in campo di Silvio Berlusconi io posso dire intanto che cosa è successo nelle redazioni dei giornali perché l'effetto era ovviamente diciamo prevedibilissimo si è tornati a parlare delle cose di cui si parlava 8, 9, 10 mesi fa siamo tornati alle toghe rosse ai giudici comunisti alle escort eccetera eccetera tutta la discussione sulle questioni che andrebbero affrontate per risolvere i problemi del paese sono diciamo passate già da canto insomma onestamente il ritorno in campo di Berlusconi complica un po' la partita del PD oppure no perché noi eravamo convinti di essere di fronte a elezioni di fatto decise si trattava soltanto di capire con quale legge elettorale e con quale alleati il PD avrebbe vinto queste elezioni io ho la sensazione che con il ritorno in campo di Berlusconi e con la sua nota spregiudicatezza la partita torna un po' più in bilico è la sua opinione oppure lei crede che la strada sia ormai segnata? io credo che per noi vincere le elezioni con Berlusconi dall'altra parte sarà più facile io sono può darsi che venga smentita per carità perché io non l'ho mai sottovalutato Berlusconi sia ben chiaro però io sono davvero convinta che Berlusconi dall'altra parte è un punto in più a nostro favore due, tre, quattro, cinque non solo perché non ha spostato di fatto i consensi nei confronti del PDL ma perché non è riproponibile Silvio Berlusconi agli occhi degli italiani e lui stesso secondo me si è rimesso in gioco perché sa che dovendo perdere forse con la sua presenza tiene almeno insieme i naufroghi del suo partito e può pensare di salvare un po' di classe dirigente perché sarà lui che decide sarà lui che fa le liste non credo che lui sia tornato in campo pensando di vincere di tornare a Palazzo Chici lui è tornato per evitare l'affondamento della zattera dei suoi naufraghi per questo è rientrato perché quel partito Alfano insieme non lo teneva nonostante voglio dire a me sta pure simpatico certo più quanto mi sta simpatico Berlusconi ma non ce la fa a tenere insieme la compagnia è chiaro che c'è davvero una lacerazione molto profonda Berlusconi è tornato per questo ma non perché pensa di vincere è tornato perché dice perdiamo ma io tengo insieme la compagnia e forse 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 riesce persino a non cambiare la legge elettorale e quindi con il porcellum a scegliersi anche la classe dirigente che vuole lui perché lui ha alcune grandi esigenze da questo punto di vista io aggiungo anche un altro aspetto siccome io sono al contrario anche di alcuni esponenti del mio partito alcuni lo dicono esplicitamente altri lo mandano a dire implicitamente altri vi lavorano senza neanche dirlo io che sostengo ho voluto il governo Monti e lo sostengo e lo sosteniamo lealmente ritengo che nel 2013 debba tornare la politica in questo paese che si debba tornare al confronto tra schieramenti politici diversi chi vince le elezioni governa chi perde fa l'opposizione per questo io vorrei una nuova legge elettorale ma comunque di impianto maggioritario ma siccome c'è chi coltiva le larghe intese io penso che il ritorno in campo di Berlusconi complichi la prospettiva delle larghe intese perché mentre posso pensare che con un PDL guidato da Alfano ci può venire si può dire comunque il paese in queste condizioni facciamo una fatica c'è un presidente del consiglio Monti che ha lavorato bene fino adesso chiediamogli di continuare perché questo dà anche in qualche modo il pensiero di molti una sorta di anche affidabilità nella comunità internazionale o quant'altro e le forze politiche che hanno sostenuto il governo Monti fino adesso continuano a sostenerlo se non c'è in campo Berlusconi o Berlusconi a un passo indietro penso che questa prospettiva qualcuno possa pensare di coltivarla con Berlusconi che torna a guidare il PDL mi domando chi può avere il coraggio di dire che dopo il 2013 si continua a sostenere un governo tutti insieme perché questa cosa non è possibile gli interessi di Berlusconi non saranno mai gli interessi dell'Italia e la sua presenza in gioco rende impossibile qualunque tipo di larga intesa quindi io personalmente sono dispiaciuta preoccupata mi domando che paese è questo che dopo vent'anni di disastri come dire si ritrova di fronte sarebbe come se fosse tornato Mussolini cioè a un certo punto dice ritorna ritorna Berlusconi e sto paese se lo guarda dice adesso che succede ma persino quegli argomenti che citava lei sono ammosciati persino quelli cioè non 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 abbiamo più neanche il Berlusconi delle escorte o della lotta a Letoghe cioè non c'è più nemmeno quello è la fine di un'epoca che si ripropone ma francamente per noi io sarei più prudente no io penso che io penso che per noi questa è una possibilità in più di vincere le elezioni e aggiungo che questo sbarra la strada a tentativi di larghe intese perché con Berlusconi al capo dello schieramento politico avverso non è pensabile di sostenere insieme lo stesso governo senta Presidente lei faceva prima riferimento al futuro diciamo e al ruolo di Monti io vedevo che oggi le agenzie annunciavano che i famosi 15 firmatari di quel documento mandato al Corriere della Sera con il quale si chiede sin da ora un impegno a sostenere un nuovo governo Monti dopo elezioni si riuniscono diciamo in un convegno che faranno venerdì eccetera eccetera quindi non è forse una cosa così estemporanea forse è una cosa destinata a rimanere diciamo questo tifo per un governo tecnico sostenuto dai partiti chi è per questa tesi scommette purtroppo anzi prevede probabilmente un autunno molto complicato e una primavera ancora peggiore così da rendere quasi inevitabile quel percorso lei non ci crede per niente a questo io non persego quell'obiettivo non sono in grado di dire che siamo in grado di escluderlo che questo non si verificherà però non è il mio obiettivo politico io lavoro perché il partito democratico in una coalizione di centro-sinistra vinca l'elezione e governi questo paese lavoro per questa prospettiva questa è la mia prospettiva non escludo che questa cosa possa accadere ma la riterrei come dire una sorta di diciamo di costrizione e non sono neanche sicura che farebbe bene all'Italia e all'Europa perché io credo che questo governo e questo presidente del consiglio in maniera particolare questo presidente del consiglio al quale va la gratitudine per aver per ha intrapreso una strada che sta mettendo in sicurezza l'Italia per averci ridato credibilità sul campo internazionale e per aver riconsentito all'Italia di avere una parola in Europa che c'era stata completamente tolta io credo che vada bene per mettere in sicurezza l'Italia non credo che vada bene per far uscire l'Italia l'Europa e il mondo definitivamente dalla crisi perché comunque è da stimabilissimo correttissimo stimatissimo liberale espressione in qualche modo di quella cultura che è all'origine di questa crisi io credo che il mondo vada letteralmente riscritto dopo questa fase e per riscrivere questo mondo ci vuole il nostro pensiero non ci vuole il pensiero del presidente Monti lei tra i leader del partito democratico ne abbiamo parlato più volte in interviste è senz'altro la più critica nei confronti al governo Monti lo fa naturalmente diciamo essendo il presidente dell'assemblea di un partito che sostiene il governo Monti e quindi con le necessarie prudenze ma insomma lei ha sempre marcato qualche distanza rispetto ad alcune delle scelte del presidente ci può dire qual è la cosa che l'ha convinta di meno di Monti io penso soprattutto all'ultima fase ho visto che il PD è nettamente in campo a proposito dei tagli alla spesa diciamo in difesa della sanità della scuola dei servizi per i cittadini però anche lì si taglierà molto qual è la cosa che proprio la convince di meno il mio voto al governo Monti non è mai mancato io ho condiviso con tutto il partito con il segretario con i gruppi parlamentari le proposte di cambiamento di emendamento che abbiamo presentato alcune sulle quali l'abbiamo spuntata altre non ce l'abbiamo fatta ma non ce le siamo assolutamente messe via e non abbiamo mai mancato di far presente a questo governo e al presidente Monti le cose che noi faremmo in maniera diversa e da questo punto di vista ho fatto la battaglia con il segretario sull'indicizzazione delle pensioni sugli esodati non ci siamo messi via la battaglia soprattutto per quanto riguarda le donne di un allungamento dell'età pensionabile forse insopportabile per la situazione che c'è in Italia in questo momento abbiamo fatto la battaglia sull'articolo 18 l'abbiamo spuntata non riteniamo che questa riforma del lavoro sia soddisfacente in questo momento lo dico per alcune cose io penso che la filosofia sia giusta quella del ministro Fornero che gli ammortizzatori sociali non possono durare tutta la vita perché perché sarebbe una contraddizione noi in Italia abbiamo tardato a fare questa riforma ma io sono molto preoccupata che gli ammortizzatori sociali a partire dal primo gennaio del 2013 durino un anno e si fermino perché penso che chi perde il lavoro nel gennaio del 2013 a dicembre del 2013 non ha lavoro non ha ammortizzatore sociale non ha pensione è un altro esodato Berlusconi per favore non scambiamo il medico con chi ha infettato il paese che questo governo stia dando al paese una medicina amara lo sappiamo bene ma la colpa non è del medico e di chi ha portato il paese a questa malattia e comunque noi sosteniamo e su questo ultimo provvedimento abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere noi vogliamo una lotta vera alla spesa improduttiva non siamo mai stati il partito della spesa non lo saremo mai non siamo mai stati il partito del debito pubblico però non è possibile che un provvedimento che si chiama spending review sia un taglio lineare a capitoli fondamentali della nostra vita comune in maniera particolare al sistema sanitario questa cosa è stata detta con molta chiarezza non gliel'abbiamo detta soltanto noi gliel'hanno detta tutte le parti sociali gliel'hanno detta gliel'hanno detta a tutte le regioni noi non possiamo sopportare che per salvare questo paese distruggiamo i settori portanti del nostro sistema di solidarietà pubblica la scuola ha già avuto un enorme taglio il sistema della ricerca dell'università è in grande difficoltà il sistema degli enti locali è stato massacrato in questi anni non è pensabile che si esca dalla crisi continuando ad abbassare le tutele perché questo significa di fatto mettere ulteriori elementi di recessione per crescere un paese ha anche bisogno di politiche pubbliche forti ha bisogno più che di regole sul lavoro di posti di lavoro ha bisogno di investimenti ha anche bisogno di lotta alle disuguaglianze che è diventato un altro fattore di decrescita e anche una fonte paradossalmente di indebitamento le disuguaglianze che sono cresciute così tanto in questi ultimi anni è che questi ultimi mesi mettono a rischio anche le stesse politiche di rigore e quindi credo che la nostra non è un fatto personale è la politica con la quale il partito democratico ha sostenuto questo governo che continua a sostenerlo con grande senso di responsabilità ma che contiene in sé anche l'alternativa e a proposito quella carta di intenti che è stata presentata sabato senta ma a proposito di alternativa naturalmente è un discorso complicato da fare perché non sappiamo diciamo con che legge elettorale si andrà a votare però comincia a serpeggiare un po' di preoccupazione circa lo stato dell'arte tra i potenziali alleati del centro-sinistra oggi c'è un caso sufficientemente clamoroso per diciamo così per metterci un commento semplice semplice dell'attacco dell'onorevole Di Pietro al presidente della repubblica un attacco veramente questa volta diciamo incomprensibile fatto sta che Di Pietro è uno dei vostri potenziali alleati un altro è Nichi Vendola mi pare di capire che viene considerato più affidabile dal partito democratico ma rispetto al governo Monti avete una posizione del tutto diversa un altro alleato possibile per Ferdinando Casini che però su tante cose è molto lontano dalle posizioni che hanno sia Vendola che Di Pietro il segretario del partito democratico continua a dire diciamo che la linea è quella dell'alleanza tra i progressisti e i moderati io allora vorrei chiederle tanto per cominciare chi sono i progressisti cioè se tra i progressisti c'è anche Antonio Di Pietro ancora oppure insomma Antonio Di Pietro è il signore che rifiutò di fare gruppi parlamentari unici dopo che aveva preso l'impegno aveva fatto eleggere i suoi insomma ne ha fatte tante diciamo già in questi tre anni lui è ancora uno diciamo dei vostri alleati privilegiati oppure possiamo considerarlo fuori visto che usa un linguaggio calcistico io penso che il cartellino rosso per Di Pietro dal campo dei progressisti stia per essere quindi quindi non è ancora fuori voglio dire adesso non tocca sicuramente a me deciderlo me ne guardo bene però gli attacchi al presidente della Repubblica da una parte e posso dire più diciamo più modestamente gli attacchi che rivolge anche al nostro partito tutti i giorni rendono davvero complicato pensare che possiamo costruire insieme un'alleanza cioè se ha intenzione di stare in campo bisogna bisogna che la smetta di commettere scorrettezze tutti i giorni tutti i momenti e molto pesanti quella di oggi è pesantissima anzi io colgo l'occasione per esprimere non solo la solidarietà ma l'apprazzamento al presidente della Repubblica so bene che quando si compiono gli atti che ha compiuto lui c'è bisogno anche di spiegarli la prima spiegazione che io mi sento di dire è che quello che ha fatto non è a difesa della sua persona è a difesa del ruolo di garanzia e di tutela della presidenza della Repubblica e del capo dello Stato nel nostro paese che va assolutamente tutelata e garantita e questo non significa non fare chiarezza non significa non combattere la mafia non significa avere dei segreti e quindi da questo punto di vista diciamo che l'atteggiamento del nomevole di Pietro va a toccare noi abbiamo sempre parlato di un'alleanza innanzitutto per la democrazia quella visione che lui dimostra quando fa gli attacchi al capo dello Stato mette in dubbio la possibilità di condividere il modello democratico per il futuro con il nomevole di Pietro questo è il punto e lo dico con rammarico perché io sono una ritengo che per esempio ritengo che se il mio partito dovesse mai arrivare a prendere questa decisione in maniera definitiva si dovrebbe sentire ancora più impegnato per esempio a porre la questione morale come questione centrale della propria vita e della vita politica di questo paese tanto per spiegare il senso con il quale insomma vivo questo e a me dispiace molto io ritengo che con Vendola ci sia ancora tutta la possibilità di costruire il campo dei progressisti che io vorrei vedere costruito per primo cioè io penso che prima noi dobbiamo Bersani qualche estate fa parlò del nuovo Livo noi dobbiamo prima di tutto costruire quello e dopo aprirci ai moderati ma prima di tutto dobbiamo fare chiarezza nella nostra metà campo quella con la quale governiamo le regioni le amministrazioni locali e poi aprire perché lo dico con io non non ho nessuna intenzione di come dire nel 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 programma con il quale dobbiamo costruire un progetto più largo io non ho nessuna intenzione di autolimitarmi per interpretare le esigenze del partito dei moderati di questo paese perché penso che in questo momento sono le nostre idee sono le nostre impostazioni quelle che servono davvero all'Italia e quindi noi dobbiamo dobbiamo ristabilire il campo dei progressisti e dei riformisti e con questo poi cercare un dialogo con quelli che noi definiamo i moderati di centro perché i moderati sono anche dentro il partito democratico e se il partito democratico vuole porsi al centro di una grande alleanza di centro-sinistra è perché al suo interno già vive questa sintesi tra progressisti riformisti e moderati a proposito della sintesi della quale parlavamo prima mica solo su alcuni temi su tutti basta pensare anche al nostro pluralismo sulle politiche del lavoro sulle politiche di welfare sulla stessa visione di riforma del sistema democratico del nostro paese quindi noi siamo un partito a larghissima potenzialità da questo punto di vista non solo con le forze politiche ma anche con le componenti sociali di questo paese e quindi questa è l'operazione che dobbiamo costruire e credo che da questo punto di vista dobbiamo pensare anche a una legge elettorale che ci aiuta ecco perché noi abbiamo spesso la sensazione che di fronte a difficoltà politiche lei parlava della costruzione del campo diciamo dell'alleanza dei progressisti e dei moderati io ha noto diciamo che la settimana scorsa Nichi Vendo l'ha detto Casini dice no magari mi alleo con Casarini non con Casini persona rispettabile ma se ci governa in Puglia ho capito allora state facendo un incomprensibile gioco delle parti però del quale non capiamo il senso sì ma il giorno dopo nel quale Casini si incontra con Bersani sento una grande fretta di andare a dire che lui pensa a un futuro governo da sostenere insieme ad Alfano e a Bersani ma perché sa che è chiaro sì però la gente non ci capisce niente più ma la gente ci ha capito più di noi perché le amministrative le abbiamo vinte insieme e perché al referendum lo scorso anno il 51% degli italiani ha votato insieme il referendum intorno al tema della legalità del modello di sviluppo intorno al tema dei beni comuni e quel 51% non era solo il campo dei progressisti perché altrimenti non avremmo raggiunto il 51% allora l'elettorato è molto più saggio delle forze politiche che lo rappresentano perché gli italiani hanno capito che bisogna voltare pagina e si volta pagina non se si vince col 33% e poi siamo chiamati a cambiare le fondamenta della vita di questo paese lo si fa se si vince con una maggioranza larga ma soprattutto come ha detto molto bene Bersani se ne convinciamo qualcuno in più per fare le cose così impegnative che dobbiamo fare forse ci riescono meglio e questo è il senso della nostra operazione ecco presidente ma con quale per esempio se c'è Berlusconi Casini di là non ci va di sicuro a proposito del rientro di Berlusconi sì io ce l'ho dato con quale legge elettorale presidente perché noi abbiamo la sensazione abbiamo la sensazione che tante volte diciamo di fronte a problemi politici si cerca la scorciatoia della soluzione tecnica ora il problema è appunto una legge elettorale diciamo che risolva alcuni problemi politici è fuori discussione no che il doppio turno in qualche modo questo è peraltro ora però non ce lo danno ora però appunto i pasticci sono talmente tanti di qua e di là che non è un caso che sono otto mesi da quando è in carica Monti e i partiti avevano assunto l'impegno di lavorare una nuova legge elettorale che non si trova uno sbocco la proposta del PD è chiara la proposta degli altri partiti è altrettanto chiara ma è diversa io vorrei chiederle qual è l'ultimo punto di mediazione possibile per voi e comunque il partito democratico è comunque un po' il perno l'ultimo a parte che noi tutti i nostri sforzi li facciamo quotidianamente e vorrei che fosse chiaro a tutti il PDL che non ha nessuna voglia di cambiare la legge elettorale perché questa gli va proprio bene se la soffatta e se la terrebbero volentieri per i motivi anche che dicevamo prima perché tutto sommato c'è un bel premio di maggioranza ma permette di perdere bene e di scegliersi la squadra dei parlamentari che è quello che a Berlusconi sta molto a cuore in questo momento perdere bene e avere i parlamentari che decide lui in Parlamento noi la vogliamo cambiare davvero e perché? ma la vogliamo cambiare perché questa è una legge elettorale impresentabile scusate ma la distanza enorme che si è creata tra gli eletti e gli elettori tra le istituzioni e i cittadini tra la politica e la società italiana in larga parte dipende da una legge elettorale che vede un Parlamento nominato dai segretari e non eletto dai cittadini questo è il punto vero però Bersani è contro le preferenze contro il ritorno delle preferenze allora non c'è mica solo la preferenza per poter scegliere il proprio parlamentare io sono tra coloro che non le demonizza perché credo che non le demonizzo perché credo che anzi penso che la stragrande maggioranza degli italiani dice ma insomma se io potessi scrivere un nome e tutto sommato sono sicuro di aver scelto una persona quando mi mandate un candidato in un collegio e insomma e me l'avete mandato e me lo tengo me lo voto lo conoscerò lo incontrerò lo vedrò è meglio di una lunga lista però il problema resta sempre chi decide chi va in quel collegio quindi non è una cosa da poco questa però ma al di là di questo troviamo il modo io penso che questa sia la priorità per noi un modo con il quale si restituisce agli italiani la possibilità di scegliere i parlamentari il secondo punto per noi irrenunciabile è una legge con un premio di maggioranza alla coalizione perché chi vince deve poter governare chi vince non deve trovarsi nel rischio di dover governare con l'avversario chi vince deve avere una possibilità come dire di esercitare in virtù di una maggioranza relativa forte e robusta di realizzare il proprio programma dico premio di maggioranza alla coalizione perché in un paese dove i principali partiti non raggiungono il 25% i principali partiti il principale partito che in questo momento siamo noi nei sondaggi oscilliamo tra il 22 il 23 il 24 ogni tanto quando ci va bene non dopo l'assemblea di sabato ma insomma il 25 e si può pensare che sia sufficiente il premio di maggioranza al singolo partito questo significa comunque il rischio di ingovernabilità dopo quindi in Italia il bipolarismo non è bipartitismo e allora il premio di maggioranza deve essere alla coalizione so che questo non piace al massimo D'Alema però fino a quando lui non riesce a regalarci un partito democratico che supera il 35% mi pare inevitabile che noi si pensi di dire il premio di maggioranza va a quella coalizione che ha saputo unire in un programma condiviso forze politiche che saranno in grado di governare il paese ma che avranno le condizioni per poterlo fare in Parlamento anche dal punto di vista numerico che non è una cosa da poco sono le 11 e quindi le chiederei un'ultima cosa per chiudere questa conversazione a me mi ha molto colpito all'inizio della fase concitata della discussione lei ha detto se noi non costruiamo il partito democratico vedete che cosa può succedere sono passati quattro anni dalla fondazione del partito democratico io vorrei se è possibile che lei chiudesse con un messaggio invece di speranza cioè si riuscirà a costruirlo davvero non soltanto come un fatto nominale questo partito democratico e qual è secondo lei l'elemento che è mancato in questi anni affinché l'operazione riuscisse grazie io penso che io so che dico una cosa che la farà sorridere però io penso che sabato abbiamo fatto un passo avanti abbiamo pagato caro non se ne è accorto nessuno ma io penso che abbiamo fatto un passo avanti il partito democratico si costruisce se abbiamo la pazienza di ascoltarci di trovare sintesi sempre più avanzate questo partito nasce dal presupposto dei nostri limiti della consapevolezza del limite di ciascuna cultura riformista quando è finita la democrazia cristiana noi cattolici di sinistra abbiamo capito che se non ci univamo con il resto della sinistra italiana saremmo stati risucchiati su posizioni di conservazione di arretratezza come è successo al partito popolare europeo che è diventato un partito conservatore la sinistra italiana se si è unita in un partito come il nostro è perché ha capito appunto come dicevo prima che il pensiero social democratico era fallito già alla crisi del 1973 adesso noi siamo molto contenti che Hollande ha vinto in Francia e diciamo ah Monti ce l'ha fatta perché c'è Hollande non è mica l'Hollande della social democrazia di dieci anni fa che pur essendo egemone in Europa non ha fatto fare un passo avanti così all'Europa perché l'internazionalismo socialista era più forte della dimensione europea abbiamo avuto in mano i partiti social democratici hanno avuto in mano l'Europa dieci anni fa e non gli hanno fatto fare un passo avanti così adesso si è capito tutti insieme che o ce la fa all'Europa o non si va da nessuna parte perché sono preoccupata quando vedo spinte identitarie cattoliche dentro il nostro partito e sono altrettanto preoccupata quando vedo soprattutto i giovani che si rinchiudono dentro correnti monoidentitarie monoculturali di provenienza magari PCPDS al quale non hanno mai neanche appartenuto perché non ce la fanno per età perché vuol dire che non si ha voglia di stare insieme io non la penso come Ichino ma penso che o Fassina capisce l'importanza di Ichino o la sintesi sul lavoro del partito democratico non interpreta la società di oggi sembra un paradosso ma è così perché nell'uno o nell'altro ce la fa non ce la fa quella sinistra che ha provato a cedere al liberismo di turno qualche anno fa perché le idee sbagliate degli altri amministrate da noi vanno bene e non ce la fa quella sinistra che si rinchiude nelle sue idee del novecento così come non ce la faremo se non ci apriamo lo dico adesso vedo che è rimasto e ringrazio chi dopo le scintille iniziali è rimasto qua e siamo rimasti qua ad ascoltarci non ce la fa il PD se non si apre alla cultura dei movimenti dei diritti civili della pace di un associazionismo che raccoglie le persone che noi facciamo tanta fatica a raccogliere noi siamo qui con i capelli grigi basta che vai in un ambito di volontariato e di associazionismo trovi tutti i giovani sono scomodi eh però ce la fai se fai un partito così se fai se cogli la forza delle tue idee ma anche il limite delle tue idee e sei curioso di incontrarti con con degli altri il problema dell'immigrazione sarà mica un problema di fare una legge basta adesso diamo la cittadinanza riconosciamo i diritti togliamo il diritto di clandestinità la sfida che ci viene dall'immigrazione è lo capiamo che non siamo più tutti bianchi tutti cattolici tutti con i capelli di un colore tutti con un gusto di musica tutti con un gusto di cibo lo capiamo questo questo significa no? semplicemente che ci accontenteremo di viverci uno accanto all'altro non dandoci fastidio la grande sfida delle persone che non che non hanno la nostra lingua la nostra religione la nostra cultura la nostra pelle non sta semplicemente nel riconoscere di un diritto è di accettare di fare insieme una nuova cultura una nuova sintesi una nuova Italia il PD è questo è questo è questo che può aiutare anche l'Europa a ritrovarsi pienamente e il pensiero democratico nel mondo a cambiare il passo rispetto alla cultura che la destra ci ha dato e questo ci scomoda nelle idee siamo sempre stati capaci di fare accordi di potere tra di noi sarà più facile andare d'accordo al governo con Casini che con qualche cattolico che è dentro il PD perché con Casini non abbiamo nessuna voglia di mettersi d'accordo ma con i cattolici del PD siamo costretti a farlo e la stessa cosa vale con vendola o con la cultura di sinistra che è dentro accordi di potere si sono sempre fatti di qua e di là invece qui abbiamo scelto un'altra cosa un nuovo patto culturale politico tra di noi una nuova sintesi un nuovo pensiero e poi voglio cambiamenti dal punto di vista organizzativo perché invece da questo punto di vista siamo ancora come dire c'è stato sicuramente un'organizzazione più forte di un'altra che per carità meno male che c'è questa è un'espressione straordinaria meravigliosa mi domando se basta mi domando se anche da questo punto di vista il nostro stare insieme non ci chiede soltanto di dire quest'anno a fare gli stand c'è qualcuno in più forse bisogna fare anche qualche cosa di diverso rispetto a formule come queste perché il mondo di oggi si può incontrare anche in maniera diversa e la stessa cosa vale per come si forma la classe dirigente per come la si seleziona per come ci si rapporta al resto del mondo è una grande sfida io penso che se abbiamo voglia di fare insieme questa strada ce la possiamo fare se c'è qualcuno che dice come dire adesso per un po' però poi si ricomincia da capo e c'è sempre cioè gli altri sono innesti in un tronco che non ha nessuna voglia di mettersi in discussione il partito democratico non si fa non si fa non è problema di chi fa l'innesto e di chi fa il tronco è il problema che l'albero che viene fuori non è ospitale per tutti tutte quelle realtà che avrebbero bisogno di trovare un punto di approdo in questo momento nella vita del paese nella vita dell'Europa per cui se abbiamo sta voglia io gli risponderò a Franchi perché è troppo intelligente se Franchi pensa che noi abbiamo fatto quel partito che lui ha scritto oggi sul Corriere della Sera penso che non si sia accorto quanto meno della cosa nuova che era in testa almeno nella testa di qualcuno di noi io prima di arrendermi mi si conosce sono tenace se qualcuno mi si costringe ad arrendermi lo faccio ma proprio fino all'ultimo momento ci proverò e non lo faccio per me lo faccio per il bene dell'Italia grazie al Presidente Bindi grazie a tutti voi e buona serata grazie